Alex Nauz, hai mai sentito parlare del mostruoso Bigfoot? Dove sei? Ma dove sei? Non ti vedo, ecco di qua, sì, ne ho parlato. Ne hai parlato, sì, amico tuo di infanzia il Bigfoot, naturalmente. Bene, io non ci volevo tornare qui. Non importa, infatti non siamo nello stesso posto dell'altra volta, questa volta siamo nella vera e propria terra natia del Bigfoot, cioè la Russia, probabilmente. Ma beh, si sa, si sa, è vero che il Bigfoot è russo. Sì, il Bigfoot è russo, beve la vodka. No, è alaschese. È alaschaso, adesso, basta dire cazzate, ok? Dove siete? Ma vi nascondete, ma vi mimetizzate con la vegetazione? Ma Lion, noi non abbiamo strumentazioni, dove stiamo andando? Non abbiamo neanche il fucile, torniamo indietro subito. Non abbiamo fatto niente, viene? No, no, allora, calmiamoci, prima di tutto non dovete fare mercato, prima di tutto. Secondariamente, probabilmente non abbiamo preso le cose dall'aereo, no? Non sono qui, penso che siano in questa casa qua. Sei sicuro? Non c'è niente. Eh, vedo una casa qua. Lion, non c'è niente qua in giro. È vuoto, Alex, non c'è niente. Oh, no. Beh, ehm... Bah, ehm... C'è anche un compagno qui, ma... Che c'è? Ma cosa facciamo senza fucile? Eh, niente, andiamo, dai. Troveremo. Eh, no, no, ci metti il piede, tu sai dove. No, 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 non ci metti il piede. Tranquilli, tranquilli, sarà facile lo stesso. Io so solo una cosa, che dobbiamo cercare delle persone smarrite. Ah, vedi, Anna Saleppi, ci sono i bastoni per te, Alex, raccogli qualche bastone. Raccogli qualche bastone, magari possiamo tirargli un bastone al Bigfoot. Eh, no, anche dei sassi. Bravo, bravo, raccogli tutte quante le cose, però non vi perdete, rimanete dietro di me, eh. Sono solo. No, sono di te, ma... Mi doveva usaggiare il bastone, scusa, eh. Non vi vedo io, ogni volta mi giro e non vedo nessuno, mi prende male. Ma perché ci ripetizziamo, tu non capisci. Bastone, ok, dove stiamo andando esattamente? Abbiamo... No, no, a cavolo, direi. Ah, bene, tanto il Bigfoot arriva soltanto quando viene il buio, quindi per il momento siamo tranquilli. La missione del giorno, quindi, Anna, dobbiamo salvare dei compari, giusto? In teoria dobbiamo salvare delle persone, però... Oh, no, 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 Anna, tu non hai idea, cioè mi hai fatto veramente spaventare, vai, sei un imbecille. Anna, sei un imbecille, Anna, picchiate sto orso! Hai finta di essere morto! Ma cosa, ma tra un po' lo sono davvero morto, ma picchiate di tiro! Ma sonate questo orso! C'abbiamo un cortello, c'abbiamo solo un cortello! E per me, ma coltellalo! Aspetta, fermati! Ma cosa devo fermarmi? Mi sta entrando in te... Ecco, ecco, prendi il cortello! A coltello sto orso! Oh, il cortello è morto! Oh, mio Dio, mi stava per ammazzare, mi stava ammazzando. Qualcuno ha un kit di pronto soccorso? Bene, io ho un pisello di vita, andiamo proprio... Ma che forse ti posso curare? Non puoi curare, non hai nulla. Non ti posso curare. Bene, allora, adesso, Anna, smettila di fare cose per conto tuo. Concentrati! Anna, concentrati! Scusami! Ti sto prendendo la carne per curarti! Non mi sei la carne per il Bigfoot! Amici, amici, c'è un lupo laggiù. Quindi io direi di non andare laggiù. Ma io voglio andare lì! No! Ma perché siamo qui? Accendiamo la torcia che non si vede niente di già. No, voi non accendetela! Io so... Non vede niente, via, via! Oh, andiamo. Anna, non lo fare mai più. Non lo fare più. Non ti salverò mai più la vita, ok? Ma cosa... Tu mi stavi facendo morire nella vita reale. Hai tirato un urlo per un orso. Mi hai fatto spaventare. Scusate, vedo un carro armato grosso due metri che ti corre il faccio che devo fare. Anna, zitta! In verità ho urlato io. Avete urlato tutti e due, come due pazzi. E io mi sono spaventato tantissimo. Non so che cagò addosso, non sono a parte quel lupo! Ha urlato l'anima! Guarda, l'anima! Basta, basta! Come l'hai chiamata? Così? L'aureola boreale. L'aureola boreale. Che non ce la posso fare? No, zitta, Anna. Come si chiama sta roba? Aureola boreale. Ryan, dove vai? Guarda, c'è una casetta! Io spero che tu sia l'unico imbecille a pensare che si dica così. Perché questa si chiama Aurora boreale. Aurora? Eh! Ah! Mister... E ti arriva, no? Tu sì! Polo, 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 polo! Basta, basta, basta! Mi ammazza! Seccate! Ma tua sorella è cariore! Mi è agilato! Dai! Ma avete rovinato il gioco! Come facciamo? Come facciamo? Magari uccidete il lupo, no? Anna! Aspetta, aspetta! Sto guardando qui dentro se c'è un medikit o qualcosa per tirarti su, va bene? Alex, mi vuoi guardare il culo ancora per dieci minuti? Vai a cercare un medikit! Ce l'ho! Ce l'ho, all'io! Cioè, che schifo di persone in un... Cioè, potevate buttarvi sul lupo! Grazie! Come? Come facciamo buttare? Vieni qua dentro, dentro, dentro! Alex, stai zitto! Ti fermi qui, ti fermi qui, ti metti qui, qui e stai qui, da solo! E cosa ci faccio con il lupo morto? Non me lo fa dire! Zitto! È fermo! È lì! E si attira il tipo? Zitto! Ah, che bello, che pace! Finalmente troviamo delle cose utili! Delle telecamere! Tutto qua dentro, di tutto! Che bello, la racchetta... Sì, racchetta, tua sorella è una racchetta! Vabbè, i proiettili, il drone! Il drone è bello, finalmente! Cosa sta... Ah, la chitarra! Si può suonare! La chitarra! Cosa c'hai tu? Ma che ne so sento correre, mi so cagare addosso! No, è la chitarra, sono io che la suono! Ah, ok! Sì, sì! Scusa, Anna, ma il fucil... Ecco i fucili! È qua sopra sul muro! Però ti hai preso tutte le cartucce, quindi non posso sparare! Perché non ne hai prese un po' anche tu! Perché tu arrivi... Oh, guarda, tutta questa roba! Aprivi tutto! E adesso come facciamo? Eh, niente, prenderò quelle di seguimento! Va bene, va bene! Mi sa che ho preso tutte anche di quelle! No, 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 l'ho presa una io! Ok, Alex, vieni! Ah, qua si può accendere il fuoco! Cosa vuoi le faccia? Vieni, vieni, vieni! Ti devi prendere il fucile e poi tornare fuori, perché il tuo compito è stare fuori! Accendi il fuoco, freddo! All'abbiaccio! Prendi un fucile! Dov'è, su, dov'è, su, dov'è? Dov'è? È qua? Non vede dov'è il fucile! Lion, dov'è? Lion, usiamolo come lì! È davanti ai tuoi occhi, idioti! Ah, io non l'avevo visto, Lion! Vai fuori, fuori, fuori! Cosa? Perché ha fatto andare se c'è qualcosa fuori? Fuori, fuori! Ho detto! Tanta Maria, che caga sotto! Non ho paura! Devi stare lì! Qui devi stare! Qui! In mezzo al lago ghiacciato! Ah, io volevo stare nel cesso! Qua ci sono delle cartucce, Anna o Alex, eh, nella... Lo prendo io, lo prendo io! Nello zainetto, bravo! Ok! Stiamo andando molto bene! Questa caccia sarà proficua, ve lo dico io! Allora, io ho tirato su un paio di trappole! Ho della ciccia, così possiamo fare delle trappole per il b-foot! Big foot! B-foot! Lo uccidiamo, lo uccidiamo! Poi appenderemo i suoi piedi al muro! No, i suoi piedoni grossi! Eh? Quei piedoni imbecilli! Sì, adesso dite così, poi, perché vedi quando becarica come un trattore, cosa fate? Alex, Alex, ti dico, vuoi sapere delle informazioni sul b-foot, no? Dammi delle informazioni sul b-foot! Allora, premi tab per aprire il tablet che ti dà informazioni! Ok, ce l'ho! In alto a sinistra vedi la barra di ricerca? Sì! Devi scrivere b-foot, chiaramente, per avere delle informazioni sul b-foot! Sì! Soffri, succhione! Che bello, che bello, che goduria! Alex? Ti dà roba a tutti su sta cosa! Perché l'hai fatto? Per goderci, e fidati, è stato bellissimo! Scusa, perché? Perché, scommetto che tutti nei commenti sono godiuriosi di questa cosa! Se vi è piaciuto... Ma voi l'avevate fatto già? Sì! Se vi è piaciuto, mettetemi per favore un emoji di qualcosa di dolce, tipo una caramella, un biscotto! Sono cagato addosso! Sì, beh, giusto, naturale! Ascoltate, secondo me dobbiamo iniziare a deporre qualche telecamera, però, perché altrimenti... Ma ce l'hai? A voglia, a voglia! Ma le ho prese tutte te? Sì, sì! Ne ho in abbondanza, miei amici un po' ignorantelli! Ne metto! Attenzione all'acqua, perché secondo me qui ci si... Ma non è che si spacca il ghiaccio? Eh, non so... Ma che no, ma è impossibile, qualche lastre! Non mi sembra fatto abbastanza bene da spaccarsi il ghiaccio, sto gioco, eh! Ma posso mettere... Ah, qui non le posso mettere? No, sul ghiaccio no, ovviamente! E beh, allora tu sai che sei brava! Fai una cosa, allora, facciamo il giro del lago, però, da parti diverse, va bene? Ho un'idea, ho un'idea, tipo, tu hai messo la telecamera qui, io metto una trappola con la ciccia! Io ho parlato, forse mi dovresti ascoltare! E io ti ho ignorato, perché non voglio andare da sola! Vai, 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 dall'altro lato dell'armi! Vai, 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 vai! Non le telecamere, che ci vado a fare? Non importa, vai lo stesso, se potessi te la darei, ma guarda, in questo momento... È tipo la esca, capisci? Prendi questa! Prendila, prendila, prendila! Ma se fa? Vai, 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 ce l'hai adesso, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ok, vado! Vai, 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 vieni all'estito e te... Lo sai che morirà! Ma lo spero! Io e te, invece, coraggiosi e uniti, fino alla fine, va bene? E prendi i bastoni! No, non voglio stare coraggioso con te, io voglio scappare e basta! Vuoi stare da solo? Vuoi stare cagato addosso da solo? No, no, da solo no! Allora, vieni con me! Io voglio stare tipo in una casetta, se è possibile! Prendi i bastoni! Ma cosa ha fatto pipì o? Ha fatto pipì, qualcosa ha avvissato qualcosa! Ma no, perché è passato il giorno, vero? Vero? Non lo so! Aspetta, controllo! Regà? E' strano, eh! Perché il tuo... No, 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 dai! Perché è passato il giorno, l'ha fatto, sì, sì! Sì! E' possibile che ha ragione lui, perché tecnicamente non c'è niente, però non è passato il giorno, è mezzanotte e ventotto, quindi sì, può essere che ha ragione lui, ha ragione lui, tranquilli! Alex, vieni con me, sei insieme a me, sì? Sì, sì, sono andato di te, sono andato di te, sono un po' lontano, però ci sono! Very good, amico mio, my friend! Allora ti dico, andiamo in questa zona qui, un po' recondita della zona? Ma secondo me qua è una zona molto brutta, dove ci mettono le cose in faccia, che io non voglio! Bravo, 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 a te ti guarda! Cosa c'è, Anna, Ananas? Io ogni tanto sento dei suoni strani, e comunque ho messo una trappola con la telecamera vicino! Ok, io ho messo un'altra telecamera in quell'area lì, adesso Alex Nauz, dobbiamo tornare indietro e andare, Anna! Io ti seguo! Bravo, bravo, ma puoi parlarmi nel secolo in cui ti faccio l'ordine di qua? Scusa, hai ragione, hai ragione, guardo intorno perché ho paura che mi appaglia qualcosa! Può anche apparirti, non so... Io ogni tanto sento dei suoni brutti comunque, io te lo sto dicendo! Il bambinello del presepe però, abbi pazienza, ma quando io ti faccio una domanda tu dovresti rispondere, sarebbe... Scusa, hai ragione, hai ragione! E se no dopo ti do impasto al piedone! Al Bigfoot? Certo, perché lui sai come ti mangia il piedone? Perché non posso più correre, mi sono un po' cagato! Ti ho fatto una domanda, Alex, hai sentito? Sì, non voglio essere mangiato! Lui però ti mangia in modo molto particolare, praticamente... No, 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 magari no! ...parte dai piedoni e poi dopo ti mangia il resto, hai capito? È per far crescere i piedi! Sì, certo, perché mangi i piedi, ti crescono i piedi, lo sanno tutti! Oh, sento rumori! Anna, ricongiungiti a noi! Sono qui! Cos'è? Oh! Ma che sei scemi? Cos'era? Ma non ho sentito niente io! Ho sentito anch'io invece! È il Bigfoot, è il Bigfoot! Ho sentito un rugito! È il Bigfoot, è arrabbiato! Devo mettere un'altra... Scappiamo, scappiamo! No, non scappiamo! E tenete il fucile! Devo mettere un'altra telecamera, presto! Presto, più presto! Ti raccoglio, ah sì! Mi sono rotto qua, non riesco a saltare, come hai fatto te? Ok, fermi! Anna, dove sei tu? Dove sei? Dietro di voi, dietro di voi! Ok, non ripetere le stesse cose! Posso andare in casa, ti prego? Assolutamente, questo è... No, no, no! È proprio illegale come cosa, scusa, eh! Dei soffrire con noi! Ok, ho messo un'altra telecamera qui! Adesso possiamo andare verso casa, così vediamo se è lì, perché l'infame... Sì, così ci appare davanti! Speriamolo, speriamolo! Tenete il fucile, eh, che è importante! Sì, se tu me accorri! Ok, tranquilli, va tutto bene! Non è vero, moriremo! Va tutto bene, ti dico! Moriremo molto, ti dico, invece io! Adesso lo attiriamo! Ma che ti attiriamo? Che ti attiri te? Se lo attiriamo così possiamo ucciderlo e portare i suoi piedoni! No, non credo funzioni così! In trofeo! Ok, allora... Cos'è? Egli viene attirato! Cara, non dare calci alla porta! Se caga addosso, mamma! Cara, non dare calci alla porta, che galopi dopo! Allora, cos'è? Cos'è stato? Oh! Cosa c'è? No, io avevo detto ciao! No, no, no! Anche io ciao! Tutti qua, ho detto! Allora, calmi! Tenti? No! Tiriamo un flare per attirare, ok? Cos'è stato? Ma perché non mi ha attirato? Anna, ti metti a sputare? No, no, no! Non sono stata io! Ed esci, esci! Ma che flare? Che flare? No, non esco, Lion, non esco, davvero! Esci, esci, esci! Sento zampettare tutto intorno! Sarà cara! Vieni, vieni qui! Non è cara! Esci comunque! Cos'è qua? Ho trovato una busta di... Ma che è? Ma sto lupo parla! Ma cosa... Cioè, è morto! Ah, qua c'è roba drogata, ma che... Ma che significa... Ma che è il lupo! È il lupo morto? Sì, farraggisce, ruggisce! Ma cosa vuoi ruggire se è morto? Non lo so! Alex, vai a vedere la roba drogata! Vedi un po' che non sia davvero... Dove, qua? Eh no, eh... Questa cos'è? Una torcia? Questa qui è buona! Perché questa qua lo attira, hai capito? Vediamo! La torcia l'attira? Sì, la luce lo attira lo zozzo! Vieni qui! Ma veramente? Vieni qui! Vieni qui, schifezza! Cosa è un fantasma? Bigfoot, se ci sei! Fatti vedere, fatti vedere, darci il segno! No, non è vero, non farti vedere, è stata la casa tua! Dammi un segno, Bigfoot! Bigfoot! Ma vedi che là c'è un'immagine, tipo una bistecca? Dove? Non vedo... Là! Dove punto io! Forse... No, io non la vedo l'immagine! È un lupo, è un lupo! È l'orso di prima! Ma sono sempre questi lupi? Ma perché vanno i versi? Sono morti! Bigfoot! Perché non viene? Sto schifezza! Che ore sono? Hai controllato un pochino le telecamere? Le 5 di mattina e non c'hanno... Sto morendo di freddo! In casa, in casa, in casa! In casa, veloci! In casa e attizziamo, attizziamo! Anna, attizza! Ma serve un bastone, serve un bastone! Attizzatelo, attizzatelo! Eh, non ce ne ho bastoni! Come non ci avete bastoni? Ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io! Attizza il fuoco, Alex, attizza! Sto prendendo i bastoni, un attimo! Attizza sto fuoco! Lo stavo facendo, ecco! Oh, finalmente, ok, sto meglio! Bene, allora abbiamo raggiunto il verdetto che Bigfoot sembrerebbe una pussy, perché non si è fatto vedere! Che bello, che fortuna! Adesso però, durante il giorno dopo, adesso arriva il mattino, ma appena arriverà la sera... L'ho sentito! L'ho sentito, l'ho sentito! L'ho sentito! L'ho sentito dalla telecamera 3! E veniva da te, comunque! Io l'ho sentito anche da qui! Tira un flare! In modo da attirare la sua presenza! Allora, quando è dentro casa? Sì! Succhione! Allora ce la fai pure? Succhione, vieni subito qui! No, non viene, non viene! Ma poi non è che ci entri in casa? Tu ci pensavi a questa cosa? Vieni, vieni subito, vieni! Non è che c'ho tanta voglia, eh! Dobbiamo localizzarlo! È imperativo che noi sappiamo... Sto controllando le telecamere? Dov'è, dov'è, oh, dov'è? È di là, secondo me, è là! Vedi da là, veniva il ruggito! T'ho detto di uscire! Subito! Tutti! Sto fuori! Anche tu, Anna, subito! Sto controllando le telecamere! Veniva dalla telecamera 3! Di qua! E qui dove è? Di qua, dritto di qua, Anna, giusto? Eh, non lo so dov'è, aspetta! Anna risponde in giornata, precisa! Quella è la 4! Con precisione, ragazzi! Sì, se no non concludiamo niente! La 3 è di là, è di là dove punto io! Dove punti tu, dove punti? Di qua, dove mi guardi, in punto di là, punto! Sì, andiamoci! Ma sei sicuro che veniva da qua? Eh, beh, cioè, se vi davano dicendo la 3, la 3 è qua! Io stavo guardando la 3 quando ho sentito il ruggito ed era veramente forte! Ma non c'è! Spariamo! Ho sparato per attirare! Non lo sparare a caso! Vabbè, magari si infastidisce! Ma sempre sprechi troppi colpi, dopo ci uccide! Eh? Come la metti? Vabbè, facciamo così, allora, venite con me! Concludiamo il giro in modo tale da avere più copertura, visto che è giorno, approfittiamone, no? Ci dividiamo, Anna, vieni qui! Tanto hai detto che non si vede di giorno, vero? Di giorno egli non può venire fuori! Allora... Sì, certo! Stai zitto, tu che non sai niente! Allora, questa qui è per Anna, prendila, subito! Eh, non la puoi piazzare! Mamma mia, che roba terribile! Tieni! No, più avanti la devi piazzare! Ma Dio santo, ma cosa devo fare? Ecco, così! Ok, grazie! Perfetto! Poi, Alex Nauz, te ne do una anche a te perché ci divideremo tutti! Tutti? Tutti, tutti! Ah, che bello, sì! Questa qui è per te, Alex Nauz! Allora, posizioni dove dovete metterle! Alex, vedi quell'incrocio di strade che c'è in basso a sinistra, che ci sono tre grosse strade? In basso a sinistra, sì! Lì lo devi mettere, al centro dell'incrocio! Ma là è molto lontano! Vai, 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 vai! Anna, in alto a sinistra, vedi che c'è una zona tipo... In mezzo a delle strade, una zona tipo a forma... Ti provo ad arrivare! A forma di... Scarpa? Zona? Una zona zonosa! Lion è difficile perché c'è il lago, non posso attraversare il lago io! Fai quello che ti pare, dobbiamo andare veloci però, perché poi fa freddo e si muore! Quindi tu in alto, Anna, in alto a destra, in sinistra... Anna, ma stai andando? Eh sì, sto andando, devo fare il giro del lago! Ma tu sei in alto a sinistra e stai andando in basso! E sto facendo il giro del lago! Ma fai il giro da sopra! E non potevo! È difficile! Anna, Anna! Anna! Sto andando, vedi? Guarda, guardami! Stavi sbagliando però! No, non stavo zonina! Oh, Santa Maria, Anna! Non posso nuotare nel lago, se no muoio! Ah, yeah! Sono da te, non c'è nulla! Vieni qui, corri! Ma no, Geria, ma perché ti cagli addosso? Guarda, qui, guarda, 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 dove sei? Sto arrivando, ci metto un po'! Cosa c'è, Alex? Vai a mettere... Provi ste gambe! Scusa, ma poi tu dovevi mettere una telecamera! Perché non stai andando a mettere la telecamera? Se hai visto qualcosa, dimmi quello che hai visto e non rompere le palle! Cosa c'è? Sto arrivando! Vieni veloce, veloce! Che caga sotto, incredibile! Cosa c'è? Questa! È un... È un... È un effigie! È un effigie del Bigfoot, questa! Perché? Perché lui è qui! Vidente! Ah, che bello! Anna, vai nel tuo posto a mettere! Io devo andare un altro po'! No, no, non ci va, non ci va da solo! Dai, Anna, è semplice! Non ci va da solo, c'è un effigie del Bigfoot! Vai, Anna, devi andare! Un effigie del Bigfoot! Anna, devi andare subito! Vai, vai! Oh, tanto io metto qua! Oh, io ho messa la telecamera mia! Posso tornare? No! 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 Aspetta! Morirò allora! Eh, morirai! Cosa ti devo dire? Ce ne faremo una ragione! Allora, vai, la mano scoperta da solo! Vai, la mano scoperta da solo! Non ci posso passare da lì, c'è un altro lago! Anna, non rompere... Mamma mia, che paura! C'era un lupo! Cosa è successo? Un lupo mi è venuto! Mamma mia, che brutta po'! Mi sono... Mi sono cagato un po', eh! Mi sono cagato un po' qua! Devo dire, è un po' cagato un po', eh! Un po' un po' cagato! È un po' cagato! Perché è un po' un po'! Ma che è quel punto rosso sulla mappa? Cos'è quel punto rosso sulla mappa? No, 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 tranquillo! Ho sparato un lupo! Credo! No, no! No, raga, cos'è quel lupo? È il lupo che ho sparato! No! C'è un punto! È il lupo morto! Non è così lontano! Ero qui io! Sto morendo di freddo di nuovo! No, no, guarda! È un punto gigante, là! Ragazzi, sto morendo di freddo di nuovo! E devi correre a casa, allora, o farti un campetto! Come faccio a farmi un campetto? Non lo so fare! Moio, 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 moio! Slotto vuoto! Eh, niente, sono caduto! Aiuto, aiuto, aiuto! Dove, dove? Il verde! Vieni qui! Dove vai? Non sto arrivando! No, stai andando nella parte sbagliata! Dai, ma non mi aiutate mai, però! Sto arrivando, più o meno! E qua ci sono le rocce, c'è una catena montuosa! Anna, sei dalla direzione! Anna ha messo la telecamera! Non è possibile! Non è possibile! E stavo guardando la mappa! Non sto capendo! Ma se mai metti la telecamera! Ti sto dicendo che sto morendo! Mi vuoi venire a salvare! Arrivo! Ma io non me, di chi tu? E allora, allora, niente! Sto arrivando! Sto arrivando, eccomi! Ho 37 metri, eccomi! Sto arrivando! Arrivo! 60, 50! Oddio! Stancati, stancati, così arrivi più fresco! Io sono qui, il riverso della nera! Ok, ce l'ho fatta! Il resto sta anche bene! Come funziona, così? Sì, sì, no, fai! Con tempo! Non lo devi trasferire! Ok! Ah, così, non lo so! Funziona, sei mosso! Ti sei mosso! Se non mettete il fuoco, muoio di nuovo! Mettete un fuoco! Non abbiamo fuoco! Non accendo il fuoco! Si fa, si fa, si fa! Fuoco, fuoco! Dai! Eccolo! E come si accende? Accendi il bastone! Accendi, accendi, accendi! Cosa sta succedendo? No, no, forse mi ripiglio! Forse mi ripiglio! Non lo so! Forse? Sì, ho ancora i gradi completamente... Anna, io di te non mi fiederò mai più nella mia vita! Cioè... Che dovevo fare? Qualcosa! Non hai fatto niente! Comunque sto ancora morendo! Cioè, tipo, sto muoio di nuovo! Muoio di nuovo! No, no, non morirmi! Non c'ho pronto soccorso! Perché sono... Non c'ho pronto soccorso! Non c'ho pronto soccorso! Cosa devo fare? Ma chi è che sta sparando? Ma credo di essere io! Ma sono rotto! No, si è rotto! Potete tirarmi su? E non posso! Perché non doveva trasferire! Doveva curarti e basta col medici di mano! Alex, che cacchio hai fatto? No, no, io ti ho curato, eh! Cioè, me l'ha usato! Perché... Sì, me l'ha usato! No, lui ha fatto bene! Attizzate il fuoco! Attizzate il fuoco! Perché vedo... Attizzate il fuoco! Ho tuttora freddo, capito? Quindi magari se attizziamo di più il fuoco... Dai, attizzatelo! Quanto temperatura c'hai? 6... 7 gradi! Però prima è salita! Aspetta! No, no, non ce la facciamo, raga! Non ce la facciamo! Aspetta, aspetta, aspetta! Moriremo tutti! Vedo che se... Settano rumori! Ferma! Se premo i tasti... Vedo che sale o scende! Quindi cosa succede? Che il mio personaggio si sta muovendo ma io non lo vedo! Ah, nice! Ma il po' sei sdraiato per terra! Morto per terra! Beh, ma che so che a palle c'è? Ci hanno spaventato più gli orsi di lui! Non c'è! È possibile! Io sto controllando dalle telecamere che avevamo piazzato! Se per caso è andato lì in giro! Ma è un imbecille sta persona! Io sto volendo in giro invece! Eh, bravi, ma... Cioè, io sono ancora rotto? Vediamo un po'? Eh, sì! Guarda! Ancora bloccato qua! Come un imbecille! Che c'è? Che c'è? Erano lupi, erano lupi! Ho raccattato il fuoco! Sono stupido! Va bene! Pure! Eh, cosa ti devo dire, Anna? Qua la situazione è andata a farsi benedire da un po' ormai! Te lo ripiazzo! No, non ti preoccupare, accetterò la mia fine! Sparo con la racchetta, però, così posso fare luce! Magari lo attiriamo, l'imbecille, no? Niente, non sparo neanche con questo! Niente, nelle telecamere non c'è, da nessuna parte! Ho acceso un flare, però! Ma sei nascosto, sei nascosto! Ho sentito... Hai sentito anche tu? E mi è sembrato! Un vago ruggito, un sentore di Bigfoot! Io se lo vedo mi butto nell'acqua, eh! Andate verso la foresta dietro! Andiamo, andiamo, Sofia! Sì, Anna, non avere paura! Cioè, dai, ci siamo cagati addosso per niente, non è successo niente! Non è successo letteralmente niente! Ma forse è più complicato in questa mappa trovarlo? Oh! Eh? È cambiato il giorno! È il giorno, è il giorno! Affanquiro! Dai, no, basta! Non voglio giocare mai più! Cioè, che gioco stupido è mai questo? Sono rotto nella foresta! Spero di morire! Va, Anna, di qualcosa! Noi stiamo correndo nella foresta, non lo so! Cioè, allora, c'è un punto dove, tipo, si alza un botto il volume, quindi ci deve essere qualcosa! Ma non è vero! Ma cosa dici? Io non lo so, mi succede a me sta cosa! Sono deluso, io sono veramente deluso! Anche io è triste, è triste! Cioè, sono un po' amareggiato! C'è un modo... È il gioco che si chiama Bigfoot e non c'è il Bigfoot! Ho affondato il drone, basta, non voglio giocare più! Nooo! No, no, basta, 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 basta! No, basta! No, basta! No, basta! No, basta!